L'adder 20 della Dinamo Banco e Sardegna è campione regionale. Coccio Mura manda in campo Gallizzi, L'Angio, Sanna, De Muro e Casula, Coccio Sulissi, Schiera di Ciaula, Cossu, Brisu, Iba e Cau. Il match inizia in equilibrio, ci vuole qualche minuto per vedere l'intensità salire. Gallizzi e i compagni si tengono avanti in qualche lunghezza, ma a fine periodo soffrono la difesa più stretta dei cagliaritani e chiudono in primi 10 minuti di gioco sul 21-20. Nei primi 5 minuti della seconda frazione i sassaresi costruiscono un break di 9-2 30-22. L'Olimpia accorce alla lunetta, i padroni di casa faticano in attacco, non riescono a finalizzare, ma riescono a fine a non cedere ai tentativi di sorpasso e si va negli spogliatoi sul 35-33. Nella ripresa di Ciaula firma il sorpasso avversario dall'arco, risponde L'Angio con una bomba, e De Muro e Gallizzi accendono l'attacco bianco-blu. I ragazzi di Coccio Mura prendono il largo con Re, Sanna e Gallizzi. I cagliaritani cercano di arginare con briso e cosso, ma il vantaggio casalingo rimane in doppia cifra e il terzo quarto si chiude 63-52. Negli ultimi dieci minuti di gioco l'Olimpia cerca di rientrare con simbola, Iba e Brisu, bravi ad approfittare le distrazioni difensive ai padroni di casa, ma i bianco-blu sono bravi a non mollare e mantenere il vantaggio, chiudendo i conti per 76-66. I giovani giganti under 20 sono stati premiati dal delegato provinciale della FIP, Giuseppe Manca, che ha consegnato la Coppa dello Scudetto regionale 2018.